sono qui con Giancarlo Ferruggia e con Caterina Trombetti che mi ha fatto conoscere l'opera di quest'artista e quindi a Caterina lascio la parola ma io siccome sono molto contenta ogni volta che rincontro Giancarlo Ferruggia perché la sua pittura mi ha sempre molto affascinato ho trovato nella sua pittura molta molta anima e molto passato tant'è vero la sua tecnica come diceva lui stesso è una tecnica dell'affresco quindi una tecnica di un tempo anche passato però la cosa che mi piace tanto è che la sua pittura rispecchia l'uomo è una persona di grande sensibilità ma anche di grande misura di grande rispetto degli altri e questo mi ha sempre colpito ora gli volevo fare una domanda a Giancarlo cosa rappresenta per te cosa sempre rappresentato per te perché ha cominciato giovanissimo la pittura la pittura oltre a rappresentare le immagini sono immagini introspettive immagini dell'anima più che altro sono ricordi e poesia del ricordo grazie a tutti